in occasione dei 50 anni dallo sbarco lunare è davvero un'emozione straordinaria per noi di cosa dice cosa riuscire a intervistare in collegamento la prima impronta dell'uomo sulla luna buonasera non è ancora sera allora buongiorno adesso è sera ma come signorina non è colpa mia se qui sulla luna il passaggio tra il giorno e la notte è istantaneo ah già certo mi scusi lo sapevo comunque mamma mia che permalosa ha ragione signorina mi scusi è che non sono più abituata a parlare con le persone ricominciamo dall'inizio come va ma insomma come mai beh non succede mai niente sono qui sola soletta come un cane direi solo che sulla luna un cane non c'è ancora mai stato è in depressione beh sì tecnicamente se vogliamo sono una piccola depressione sul suolo lunare ma nessuno mi aveva mai descritto in maniera così poco romantica no dicevo è triste ah moltissimo ho letteralmente il morale sotto la suola beh su via signora impronta intanto per avere 50 anni è in ottima forma eh sì mi mantengo bene ma non c'è l'atmosfera è facile è facile beh mi scusi se mi permetto ma lei per me è meravigliosa lei rappresenta uno dei massimi successi dell'umanità ma va c'è gente che non crede neanche che io esista vabbè ma quelli sono dei pirla lo vado a dire al mio analista sa a volte vorrei ci fosse davvero quel venticello che secondo quei pirla come li chiama lei faceva muovere la bandiera al momento dell'allunaggio così mi spazzerebbe via e addio dio luna crudele su via non faccia così appare in un sacco di libri la sua foto è famosissima lei è la prima impronta di un essere umano sulla luna la seconda la secco come la seconda sì e neanche spontanea sono tutta rifatta mi hanno dovuto rifare tre o quattro volte perché non venivo bene in foto ma perché la seconda quel piede lì non è di Neil Armstrong no colpo di scena mio padre è Buzz Aldrin ma va eh sì e la prima impronta morta come tante altre impronte cancellate da altri astronauti un impronticidio di massa beh vabbè comunque suo padre Buzz Aldrin è stato uno dei primi uomini sulla luna non è orgogliosa ma era un matto totale pensi che a un certo punto voleva sedersi per lasciare la prima impronta di chiappe sulla luna non sa quanto ha dovuto insistere Neil Armstrong beh però almeno da qui ha una vista straordinaria della terra per 14 giorni poi per altri 14 vedo il nulla cosmico e in più sono anche allergica alla regolite aia ma sulla luna non è tutta regolite sì ma tanto non ho i polmoni per starnutire quindi ah certo non ce avevo pensato beh però qui l'uomo ha lasciato un sacco di altre cose con cui può parlare capirai tutte le sonde e i lander che gli umani hanno lasciato qui sono tanto leggeri nella struttura quanto pesanti come interlocutori la palla da golf lasciata qui dall'apollo 14 è letteralmente una palla in quanto al fallen astronaut che cos'è il fallen astronaut la statuetta lasciata qui dall'apollo 15 in memoria degli astronauti caduti l'hanno lasciata a faccia all'ingiù ora la bocca tutta piena di regolite non dice altro che una noia infernale cavoli mi spiace sentirla così triste è arrabbiata quegli astronauti che l'hanno lasciata qui un po sì mi hanno detto tranquilla ne arriveranno altre è dal 72 che nessuno mette più piede quassù è perché adesso sono tutti fomentati con marte ma per fare cosa per andare a lasciare un'impronta su marte e poi abbandonarla lì posso lanciare un appello attraverso voi prego umani non abbandonate le vostre impronte anche loro hanno sentimenti ci vorrebbe una legge la vedo difficile mi hanno pure lasciato nel mare della tranquillità non nel mare del divertimento e del sesso sfrenato se per questo nel 2011 la nasa ha ottenuto che chiunque approderà sulla luna dovrà farlo ad almeno 75 metri da lei ha pure senta le posso fare io una domanda beh mi dica ho sentito che dall'altra parte della luna c'è un robottino cinese è vero sì il rover youtube 2 ecco sa se per caso ha intenzione di passare da queste parti ma non credo sta facendo rotta verso il polo sud lunare perché è perché magari mi passava sopra e mi distruggeva una volta per tutte e niente mi tocca aspettare un meteorite anche se le possibilità sono molto molto basse mamma che angoscia ma ha mai pensato di prendere delle pillole di antidepressivi e come faccio sulla luna non c'è acqua quantomeno non ha lo stato liquido vabbè senta chiudiamola qui no ma che fa se ne va era l'impronta del secondo uomo sulla luna intervista in esclusiva rimanga parliamo di quello che vuole di sex and the city di calcio di qualsiasi cosa se n'è andata grazie a tutti